Oggi vi darò cinque falsi amici tra spagnolo e italiano. Cominciamo con il primo che è fattoria e fattoria. La fattoria per voi è la nostra granja, mentre che la fattoria per noi è la vostra fabbrica. La seconda parola è autista e autista. Autista per noi è il vostro autistico, mentre che autista per voi è il nostro chofer o conduttor. La terza parola è disegnador e disegnatore. Il disegnador per noi è il vostro stilista, mentre che disegnatore per voi è il nostro dibuchante. La quarta parola è cargo e cargo. Il cargo per noi è il vostro incarico, mentre che il cargo per voi è il nostro carguero. La quinta parola è licenziato e licenziato. Il licenziato per noi è il vostro laureato, mentre che licenziato per voi è il nostro despedito. Come questo video farò molti altri, perché tra spagnolo e italiano esistono molti ma molti falsi amici.